Consigliere Trainito, lei ha sposato la causa portata avanti dal partito, dal movimento Il Megafono e oggi interviene su alcuni interventi di alcuni consiglieri comunali appunto riguardo l'attività del Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta. L'altra sera in Consiglio Comunale, martedì per la precisione, si discuteva una mozione presentata dai consiglieri dell'articolo 4 sullo sviluppo del porto. C'è stato un intervento ironico che per la verità non ha fatto né ridere né sorridere di un consigliere di cui parlavo oggi ma che ci preoccupiamo, abbiamo il Presidente della Regione, quindi sia per il porto che per la zona franga, sia per il vecchio pontile possiamo considerare tutto fatto. E' anche vero però che queste importanti infrastrutture sono attese dalla città da decenni. Infatti la mozione dei consiglieri dell'articolo 4 è stata ad hoc e speriamo in questo intervento che già è stato promesso dal Presidente della Regione che sarà sul porto, che sarà imminente. Poi leggo anche, mi dispiace leggere alcune dichiarazioni dove dicono che l'ex sindaco Crocetta ha lasciato pesanti debiti alla città e questo è assolutamente falso, sono delle dichiarazioni che lasciano di Stucco. Infatti il Presidente ha avuto modo di chiarire in passato che non ha lasciato nessun debito. Come pure delle dichiarazioni un po' faziose sul fatto che il sindaco ha mandato a chiesce dei progetti di sviluppo a Palermo e non è arrivata alcuna risposta, come se ci fosse un ostruzionismo da Palermo dal nostro Presidente che assolutamente non c'è e che è per la crescita della nostra città. Poi per quanto alcuni di questi atteggiamenti di consiglieri che prima attaccavano frontalmente l'amministrazione e ora hanno cambiato atteggiamento a 360 gradi, non credo che favoriscono questa amministrazione, un'amministrazione inerte. Abbiamo visto un'amministrazione che fa pagare pochissimo a McDonald's mentre paga tantissimo per l'area mercatale. Quindi lei ritiene che tutte le osservazioni portate avanti dai consiglieri che lei ha fin qui citato, i gruppi all'interno del Consiglio Comunale, siano infondati e che in realtà la situazione del Comune di Gela fosse una situazione tranquilla e fiorente. I Comuni lo sappiamo tutti che oggi attraversano dei periodi difficili. Io penso che degli attacchi al nostro Presidente avrebbe bisogno di solidarietà invece che di attacchi. Ecco perché poi gli arrivano, gli vengono recapitati per poscia dei proiettili quando uno viene lasciato solo.